Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Sul finire di agosto, probabilmente nella settimana che va dal 26 al 31, inizieranno le registrazioni di Tuosiche Vales 2024. Il programma di Canale 5, campione di ascolti come tutti i formati in cui c'è lo zampino di Maria De Filippi, è molto amato dal grande pubblico perché regala sia momenti divertenti che emozionanti. Secondo alcune voci di corridoio, la giudice popolare Sabrina Ferilli potrebbe essere stata fatta fuori. È davvero questa la verità? Squadra che vince non si cambia, almeno per quel che riguarda Sabrina Ferilli. Maria De Filippi, legata a lei da una profonda amicizia, non ha avuto alcun dubbio quando le hanno chiesto la conferma dell'attrice romana per il ruolo di giudice popolare. Le voci di corridoio su una sua cacciata, quindi, sono falsissime. Ma la notizia è improvvisa su Tuosiche Vales, sappiamo che Luciana Littizzetto non sarà più giudice. E lei che è stata cacciata, amicizia finita con Maria De Filippi? Questo con certezza non lo sappiamo, dobbiamo attendere qualche news dai diretti interessati. Ma chi ci sarà al suo posto? Le indiscrezioni sostengono che la giuria non vedrà nessuna new entry e sarà composta solo da Maria, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.